Amici miei, per cinque anni abbiamo convissuto con le strade della città totalmente dissestate. Tre mesi dalle elezioni asfalteranno le strade. Non c'erano soldi, dicevano, ora ci sono per catturare i vostri voti. 500 mila euro di lavori, senza gara, affidati all'amico compadre socio dell'assessore. Non vi siete stufati? Non avete voglia di aprire la finestra, di buttare via queste persone dalla finestra e far entrare da quella stessa finestra un po' di aria fresca? Usate bene la vostra matita, fidatevi di noi, non ve ne pentirete. Basta una matita per una grande rivoluzione. Ci sentiamo la settimana prossima.